Ciao e benvenuto su Elenco Prodotti. Nel video di oggi daremo un'occhiata alla top 5 migliori tablet 12 pollici. Dopo approfondite ricerche e test, abbiamo realizzato questa lista in base al prezzo, alle prestazioni e alle diverse situazioni in cui verranno utilizzati. Se vuoi conoscere la disponibilità e il prezzo aggiornato di questi prodotti, clicca sui link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Numero 5 della nostra lista c'è tablet PC 2 in 1. Teclast X6 Plus è un portatile 2 in 1 che funziona con Windows 10. Un processore quad-core Intel Cherry Trail Z8 350 e 4 GB di RAM lo fanno funzionare senza problemi. È dotato di un display da 12,6 pollici con tecnologia IPS per ampi angoli di visualizzazione, alta luminosità e colori vividi. La grafica Intel HD Graphics 405 di ultima generazione supporta la decodifica video H265 barra EVC e la riproduzione di video 1080p in modo fluido senza balbetti o rallentamenti. Supporta anche DirectX 11 che ti porta una migliore esperienza di gioco. Il sensore di impronte digitali è integrato nella barra delle applicazioni per consentirti di sbloccare il dispositivo in pochi secondi. Teclast X6 Plus è dotato di una webcam da 2 megapixel e supporta la registrazione video H di 720p. La batteria da 38WH offre fino a 6 ore di autonomia. Teclast X6 Plus è un computer portatile 2-in-1 con sistema operativo Windows 10. Il processore Intel Cherry Trail Quad-core Z8 350 e la RAM da 4 GB ne garantiscono il funzionamento. Un processore Intel Cherry Trail Quad-core Z8 350 e 4 GB di RAM lo fanno funzionare senza problemi. Quarto posto abbiamo Samsung Galaxy Tabella. Uno schermo più grande e ottimizzato per l'intrattenimento e la produttività. Il Samsung Galaxy Tab S7 Plus è un tablet progettato per sfruttare al meglio la tua esperienza mobile. Fai di più in movimento con questo ampio display da 10.5 che è ottimizzato sia per il lavoro che per il gioco. E grazie al processore Snapdragon 865 Plus non dovrai mai preoccuparti di ritardi o interruzioni durante il funzionamento del tuo tablet. Mentre il Samsung Galaxy Tab S7 Plus è perfetto per l'intrattenimento, la sua progettazione è anche incredibilmente conveniente per la produttività. Il tablet viene fornito con la penna S Pen inclusa, che ti consente di sfruttare al meglio le sue funzionalità creative e di elaborazione testi. Inoltre, il Samsung Galaxy Tab S7 Plus è compatibile con la tastiera opzionale Book Cover Keyboard, che ti consente di trasformare il tuo tablet in un potente PC portatile. Migliore esperienza possibile. Numero 3. Abbiamo Microsoft Surface Pro 7. Il Surface Pro 7 è un tablet che può sostituire il tuo portatile. È il Surface più sottile e leggero di sempre, con uno schermo ancora più grande per la massima produttività. Il nuovo corpo in magnesio nero è elegante e professionale. Il display Pixel Sense da 12,3 pollici ha un contrasto estremamente elevato e un basso riflesso, così puoi lavorare tutto il giorno senza affaticare gli occhi. E funziona perfettamente con la Type Cover opzionale per proteggerlo dai pericoli quotidiani della vita, come il caffè rovesciato o un po' di pioggia durante il tragitto verso il lavoro. Il Surface Pro 7 è ancora più versatile grazie alla porta USB ci aggiunta. Puoi collegare facilmente qualsiasi dispositivo esterno, come un disco rigido o una fotocamera digitale. E la ricarica è veloce e semplice, così puoi tornare al lavoro in pochissimo tempo. Numero 2. Abbiamo 2021 Apple iPad Pro. Questo prodotto è un nuovo Apple iPad Pro. Questo tablet ha un display Liquid Retina XDR da 12,9 pollici con tecnologia ProMotion Per. Uno scorrimento fluido e transizioni animate. Utilizza Truton per regolare automaticamente il colore e l'intensità in base alle condizioni di luce. Ambientale nella stanza. Supporta anche l'ampia gamma di colori P3 in modo da poter vedere colori ricchi che sono più vividi che mai. Sarete in grado di vedere tutto chiaramente grazie alla splendida risoluzione 2732X 2048 con 5 milioni di pixel a 264 ppi. Il tablet ha anche una fotocamera posteriore da 12 megapixel con modalità notturne. Smart HDR 3 registrazione video 4K a 60 fps con stabilizzazione ottica dell'immagine. Ci sono anche due altoparlanti stereo che offrono un suono surround multidireccionale per un'esperienza di ascolto coinvolgente. Per finire, il numero 1 della nostra lista è Lenovo ThinkPad. Il Huawei MatePad T8 Tablet è un tablet sottile, leggero e potente che è perfetto per tutte le tue esigenze di intrattenimento. Con il suo grande display da 8 pollici, si può facilmente godere di film e spettacoli televisivi in movimento. Il processore Octa-Core lo rende veloce e reattivo in modo da poter fare le cose rapidamente. E con la connessione dati 4GLT e integrata in questo tablet, avrai sempre accesso a Internet quando sei in giro. Il Huawei MatePad T8 Tablet è un tablet economico ma potente che offre prestazioni eccezionali. Con il suo grande display da 8 pollici, si può facilmente godere di film e spettacoli televisivi in movimento. Il processore Octa-Core lo rende veloce e reattivo in modo da poter fare le cose rapidamente. E con la connessione dati 4GLT e integrata in questo tablet, avrai sempre accesso a Internet quando sei in giro. Avrai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto premi il pulsante Mi piace e se non conosci il canale, iscriviti e premi l'icona della campana per ricevere gli aggiornamenti futuri.